ciao a tutti sono viola e vi sto parlando dalla ventiquattresima tappa del trope 2021 nonché zerbi in provincia di piacenza è il comune più piccolo di tutta le mie romagna con solo 68 abitanti tra adolescenti infatti stamattina quando siamo arrivati avevo un po paura di trovare una cosa un po sperduta un po senza senza niente ma in realtà ci sono tantissime montagne veramente sembra di stare in un cartone della disney poi durante il pomeriggio abbiamo anche intervistato dei ragazzi che scappano dalle grandi città e vengono qua dai nonni dove hanno la casa per stare un po in campagna un po per godersi per godersi l'aria fresca ecco allora ci sentiamo alla prossima tappa ciao